Il prefetto ha espresso anche a nome dei rappresentanti delle forze dell'ordine vicinanza e solidarietà al sindaco di Trinitapoli, condannando ogni azione intimidatoria nei confronti delle istituzioni. Pur non emergendo elementi di grave criticità dall'esame dei dati statistici sulla delittuosità nel territorio di Trinitapoli, il prefetto, anche alla luce del recente episodio intimidatorio, ha comunque richiesto alle forze dell'ordine di continuare a tenere alto il livello di attenzione e di impegno operativo, con servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio che saranno opportunamente intensificati. Al termine dell'incontro il prefetto ha incontrato una rappresentanza di consiglieri comunali, ai quali ha evidenziato tra l'altro come riunioni itineranti, come quella di ieri, sono senza dubbio l'occasione per rendere più percettibile la vicinanza dello Stato alle amministrazioni locali nel perseguimento dell'obiettivo di rafforzare i livelli di legalità nel territorio. Solidarietà al sindaco di Trinitapoli viene espressa in una nota anche dal presidente di Anci Puglia, il senatore Luigi Perrone, che richiama la necessità di consentire agli amministratori pubblici di continuare ad operare in serenità per l'affermazione della legalità.